Ciao ragazzi, oggi porto un video, smetto di giocare a Yugi, vendo tutto, perché non ha più la voglia, dopo un po' stanca, partiamo dagli accessori che vendo, vendo solo, quindi non proponete scambi, magari se avete roba mermella prendo così a caso, per rivenderle, tipo le linde con le baglie accessori, ho come gustine protettive, abbiamo pacchetto di player choice da 50 penso, si 50, 50, 50, sono proprio bene bianche, per certe condizioni le ho prese pochi giorni fa, le vendo a 5 euro, vi dirò i prezzi di tutte le carte, poi ho 50 della world, così le vendo a 10 euro, sono 50, qua ne vedete poche ma comunque ne ho molte altre di là, ho i tappetini da vendere, ho questo, che è con Mago Nero e Maga Nero e Yugi, questo lo vendo a 5 euro, poi ho questo, lo stesso a 5 euro sempre, poi Cosmo Glazer, vendo a 15 euro, i prezzi non saranno molto alti, ve lo dico subito, e poi WCQ, che questo lo faccio 30 euro, ok, Beh, userò questo come fondo, come roba da vendere, le carte, ho qua qualcosa, non so tutte le carte, hanno aspettato che sennò voglio giù le buste, molta roba anche l'ho già venduta, io sto aspettando i soldi per poter spedire, ve lo dirò cos'è, gustare che non è a caso, poi, il secondo album, 10 salitari da battaglia ultra, il kickseed, non c'è un altro di questo, che l'ho gustato, do le cose che ho attratto, per pezzi, vi dico solo le cose più importanti, poi qua chiedete, qua vabbè, la base la do quando mi arriva la posta, da Onnicurem, che, che, così sarà completa, non so, c'è anche Ultimate, ma è un altro album, poi, come accessorio, ovviamente, vi do anche questo album, della ProBinder, e questo, questo ho un po' messo maluccio, quindi ve lo faccio a 10, e questo invece che ho messo molto bene 15, e poi l'album più importante, le tour super, le valuto 7 luna, no sto scherzando, 5 luna, la orica non la do, vabbè, non ricordo, bls secret, da leggendare in inglese 30, dai gusto fenix 20, trasher 20, tour rare, 5 luna, un gold ghost 5, max c, veiler 5 luna, max c, veiler 3, 4, troupe 5 luna, padding 5, i secrets 15 il 3 per, hanzo 20 il 3 per, no 15, 15, 5 luna, e 7, questi qua non li do, vabbè, se non ricordo, e questo qua, 5 euro, 5, 3 euro, giusto, perché è rovinatissimo, ah, poi vi dico anche alcune regole alla fine, 5, non li do, non ricordo, 5 euro, tanti per, 5, 3, 4, queste qua, warnings, siamo sui 5 luna, qua non lo so, non li do, ne ha, così, tanto, agente lo valuto tutto 20, dv tutto 20, 25, iro tutto 15, spedisco non per meno di 15 euro di roba, le spese di spedizione sono 5 euro per la racco 1, quindi 1 euro ce lo aggiungerò io, e sono, no cazzo sta dicendo, sono 5 per la racco normale, e 6 per la racco 1, contattatemi solo se interessate alle carte, non tengo da parte niente, e boh ciao.